bentornati ragazzi e bentornati su fortnite oggi andremo a vedere a vedere come trovare la stella della settimana 2 ovviamente della season 10 come nel caso della settimana 1 dovrete aver completato le prime tre sfide almeno della settimana 2 e poi recarvi dove stiamo andati ora anche in questo caso è molto semplice come nella 1 stiamo andando in pratica è lì fra il coltello e la forchetta nessuna difficoltà speriamo solo che non arriva nessun nemico ma la zona sembra abbastanza sicura e poi comunque abbiamo il nostro pupazzo sulla schiena che ci proteggerà dobbiamo atterrare proprio qua in mezzo o comunque andarci anche a piedi non è un problema e una volta giunti qua vedrete che vi comparirà la stella segreta della settimana 2 bene non vi resta che prenderla e boh anche per oggi abbiamo finito alla prossima su fortnite ciao ciao